Sono trascorsi 40 anni da quel 23 dicembre 1984 quando una bomba fu fatta esplodere a bordo del treno rapido 904. Fu una strage ribattezzata poi la strage di Natale. Su quel treno, distrutto dalla deflagrazione, viaggiavano migliaia di italiani, partiti da Napoli direzione Milano, che tornavano a casa per le festività e trovarono la morte nel tunnel Grande Galleria dell'Appennino alle 19.08. La detonazione fu causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli nella carrozza 9. L'esplosione causò 16 morti e 267 feriti. L'attentato fu una risposta di quello condotto dal terrorismo neofascista nel 1974 ai danni del treno Italicus. La Corte d'Assise di Firenze il 25 febbraio 1989 condannò alla pena dell'ergassolo Giuseppe Calò, Guido Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso con l'accusa di strage. Il 27 aprile del 2011 poi la DDA di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare a carico del boss mafioso Salvatore Riina, accusato di essere il mandante di quella strage. Stamattina nella chiesa di San Marcellino e Festo a Napoli si è svolto il convegno 40 anni dalla strage del treno rapido 904, tra mafie, terrorismo eversivo e poteri deviati. Ai nostri microfoni Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis e Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Treno Rapido 904. Vogliamo far sì che la comunità delle vittime tutte possa ritrovarsi insieme in questi eventi visto che purtroppo a causa delle leggi, a causa di una certa giurisprudenza sul come disciplinare il mondo delle vittime c'è il rischio che poi ci siano vittime di serie A e di serie B. Riaccendere quella fiammella a far sì che quel ricordo personale poi diventi memoria.